Amorando con l'età che ha è testimone di quasi tutta la storia del cinema. Nato nel 24, quando inventa il cinema Lumière? 95, 895, Mellier eccetera, lui pensate che ancora va a Pordenone a vedere i film muti di cui sa l'esistenza ma non ha mai visto, per poter riempire la scheda in cui dire deviso proprio, visto il film e quindi è in questo modo e dare il giudizio. Quindi ancora oggi a 88 anni lui è capace di scrivere 350 schede all'anno, non molla la presa, nonostante la stanchezza, gli anni, ma davvero il dizionario ha la sua modica dose, senza quello credo che non ce la farebbe a sopravvivere agli acciacchi, agli anni, al tempo, alla solitudine. Dopo la morte di Laura Morandini la solitudine gli pesa molto, ogni tanto mi dice io avrei bisogno di una badante segretaria fidanzata. Dico dai Morando, esagerare, però è così, ho bisogno ancora di sentimenti forti eccetera. Come nasce il film? Il film nasce dal fatto che dal 1969, quindi 43 anni fa, ci scriviamo. Ed è credo una cosa abbastanza unica nel cinema italiano, anche mondiale credo, perché lui incominciò a recensire un mio, la mia prima prova fiction che si chiamava Il libro bianco, figuriamoci che titolo, ma era lo stesso titolo di un libro di due dissidenti sovietici, allora, Signaschi e Daniel, finiti in Siberia, naturalmente in campo di concentramento, e io feci un film che doveva essere di un'ora per la RAI, protagonista Giulio Broggi, e sbagliai talmente tante cose all'interno che al montaggio lo feci diventare i 31 minuti, velocissimo, pieno di materiali, tratti da film sovietici, formalisti, Majakoski, appariva la faccia di Majakoski ogni tanto, e a un certo punto citai un film di Barnett, che si chiama Ucraina, in cui c'era un cavallo, stanco, con un cappello di paglia sulla testa, che uno stronfiava così, e in doppiaggio, gli misero delle parole in bocca a questo cavallo. E io ho preso questa, che era un discorso di fantasia, proprio da futurista, insomma, e da cinema futurista, come era molto di quel cinema, Chopper, per esempio, un film molto sperimentale, e lui recensì il film e disse, faccini che è un topo di cineteca, perché scovare quei pochi fotogrammi in un film di Barnett, che non era nemmeno dei grandi, né Pudovkin, né Sestane, eccetera. Io gli risposi, gli scrisi, lo ringraziai, non c'era animosità, c'era molta gentilezza, e poi recensì molto bene Garofano Rosso, e da allora ha sempre seguito molto il mio lavoro, sempre con molta attenzione, con molto affetto, litighiamo spesso, perché io spesso non concordo con i suoi giudizi sui film, soprattutto quelli a 5 stelle, ai quali non digerisco, non vi dico quali, non digerisco, perché altrimenti poi mi dicono che parlo male dei colleghi, e quindi discutiamo molto. Ieri sera a tavola abbiamo discusso sul film di Anneke, Amour, no? E lui ha detto, non sono d'accordo, ma senza dire perché. E quindi questo lascito, queste lettere, di cui ci dicono, pubblicate questo carteggio, insomma, un lavoro pesante, quelle che ha lui, quelle che ho io, è un lavorone. E forse poi non meritano nemmeno di essere letto, insomma. Però c'è una vicenda personale, intrapersonale, importante, e effettivamente lo considero come un po' il fratello maggiore, un po' uno zio. E quindi quando fece Jakobs, Rudolf Jakobs, sugli lovi del film, rimase colpito perché è la storia di un traditore, in qualche modo, un disertore tedesco che passa alla resistenza italiana. E lui invece ha, nella sua vita personale, un'altra storia divaricata. Lui, a vent'anni, nel 1944, quando la Repubblica di Salò lancia il bando per l'arruolamento volontario, lui, come tanti giovani italiani, risponde e va con Salò, nell'esercito di Salò. E quindi opera una scelta opposta a quella di Rudolf Jakobs. E siccome il film è un escursus dentro la storia di quel periodo, lui ha ripercorso attraverso il film quella stessa storia che ha percorso lui nella vita. E a quel punto mi ha scritto una lettera di sei pagine in cui mi diceva finalmente quello che non mi aveva mai detto, quello di essere stato fascista, giovane fascista, di essersi staccato dal fascismo, come se ne era staccato. E allora mi ha detto, Morando, ti fanno talmente tanti ritratti brutti in genere, adesso te lo faccio io, partiamo da questa lettera, vediamo se sono più bravo degli altri. E lui ha accettato, si fida di me, si fidava, si fida di me. E quindi siamo stati a casa sua, quattro giorni, mangiando insieme, camminando in questa casa pavimentata di giornali, di carta. Queste pareti che sono di libri, no? Diciamo una casa di carta, di carta accatastata, con questo odore pesante di fumo, delle mille sigarette che fuma al giorno, e l'odore della carta, l'odore di polvere, l'odore istantio della carta, dei libri. E poi sono ristato da lui mesi dopo, sono stato a Levanto ancora, sono stato a Coltano, dove lui fu recluso in questo campo di concentramento gestito dagli angloamericani. ho ancora fatto dei rifacimenti di tipo storico un mese fa. Quindi il film che passa oggi qui al Cinema Luxe è proprio l'ultimissima versione. E qui è stato un lavoro che è durato nell'arco di un anno praticamente. È cominciato nell'estate, nel luglio del 2011, è finito le ultimissime riprese a ottobre del 2012, no? E lui l'ha fatto recensire il film, che nel catalogo del 2013 c'è, con quattro stelle naturalmente, perché io non lavoro, io capolavoro ormai. Guai a Dio che si permette di darmi meno di quattro stelle. E a parte gli scherzi, quindi Morandos Music perché? Perché non è soltanto la storia di Morandos, la sua storia, storia proprio personale. Il suo escursus politico, la sua uscita dal fascismo, eccetera. Ma è questo insieme di rumori e anche di odori, di profumi che lo circondano. Anche come risponde al telefono, come mette in moto il fax, la sua macchina per scrivere Everest, che ancora ha 60 anni, perché quando batte le maiuscole si alza il carrello praticamente, il cestello di Caratino, il tum-pum, tutta questa cosa. e lui batte così come avesse un martello in mano, non vuole abbandonare questa cosa. Ma della sua musica fanno parte le parole e il come le pronuncia. E della sua musica fa parte anche l'intonazione affettuosa che ha nei miei confronti, quando mi dice io conservo tutte le tue lettere, spero che tu abbia fatto altrettanto con le mie. Dico magari non con lo stesso sogno, ma c'è una parete dove c'è tutti, per ordine alfabetico, tutti, tutti i nomi, tutti i temi, allora io vengo dopo comunismo, IDS, Chaplin, i numeri, faccini, faccini, tira fuori, è un pacco di roba. E della sua musica fa parte la musica del film Giamaica che i miei tre collaboratori Bernardini, Lombardi e Simeone fecero per il film, che lui lo dò molto, nella scheda che fece del film Giamaica, lo dò molto la musica, la musica multietnica, multiculturale, e con loro ho ripercorso la musica di Giamaica, gliel'ho fatta eseguire in omaggio a Morando, ripresa con quattro telecamerine digitali, è montata ad hoc, c'è un concerto a sé che dura quasi 50 minuti, e io ho tolto dei brani che ho inserito nel film, non come musica di accompagnamento, come si fa tradizionalmente, ma proprio audio-video, con loro che suonano, che si vedono, e dove la musica contrapunta le parole di Morando, è un format assolutamente nuovo, non si è mai vista una cosa del genere, quindi la musica è eseguita, ma anche a frammentini, ci sono dei frammenti di pochissimi secondi di percussioni, mentre lui parla delle pause, eccetera, e poi sono un paio di temi, come dire, melodici, d'amore, con cui punteggio la sua storia, la storia con la sua madre, che fu una figura importante per lui, da cui si sentiva protetto, proprio come invulnerabile, poi questa madre muore giovane, di tumore, ha 43 anni, e lui rimane solo, ha 17-18 anni, e quindi molti sbandamenti della sua vita sono legati anche a questa assenza improvvisa, questa donna, lui non aveva un buon rapporto con il padre, la madre invece era un cardine, e continua ad essere anche dentro il rapporto con Laura Morantini, che è stata sua moglie, la madre dei suoi figli, e lui racconta, racconta la sua vita, legge, dice delle sue poesie, che io ho trovato in un libro fotografico, che gli è stato dedicato da una nipote, che è la figlia di Lia Morantini, che fa la costumista, e ci sono un paio di poesie molto belle, veramente molto belle, quella dedicata alla moglie, veramente straordinaria, tutti dicono, ma è sua, o è di qualcuno, e io non ho proprio sua, e quindi c'è una chiave di famiglia dentro di un'emotività profonda, un'affettività dentro la quale esplode l'episodio tragico della sua vita, che è il suo disonore, che è l'uccisione di Tobagi, operata anche da suo figlio come membro del comando, che tese l'agguato e gli sparò, eccetera. Il figlio fece da palo, e però, insomma, è complice, faceva parte del gruppo degli assassini, e la cosa terribile, constatando, parlando di questo, e dei cattivi maestri di cui il figlio negli anni settanta fu vittima, come altri, rapportata alla mia ricerca, che ho fatto su internet, in cui cercavo una foto di Barbone, che era proprio l'assassino materiale, che sparò proprio anche il colpo di grazia alla testa a Tobagi, di questa Barbone non c'è una fotografia che una, e quindi facendo un po' di ricerca sul nome, ho scoperto che appena, appena quando si pentì, tutti hanno pensato allora che fosse un pentimento l'osco strumentale, lui si converte alla religione cattolica, diventa membro di Comunione e Liberazione, diventa responsabile della comunicazione di Comunione e Liberazione, e scrive sul giornale. Questo è Barbone. Il figlio di Morandini vive a Cuba, disperato, un ragazzo che, in quell'episodio, perde il filo, se l'avesse mai avuto, perché c'era poi anche una fragilità caratteriale molto precisa, insomma, un ragazzo che conoscevo da, non dico da bambino, ma da molto giovane, sposato con una giovane cubana, ha una figlia, vive a Cuba con una piccola rendita che gli garantiscono un paio di case affittate a Milano, ma è un uomo perduto, ha perduto la sua vita in questa azione che ha disonorato lui, la famiglia, e Morando che considera il figlio e quello che ha fatto l'imperfezione, insomma, della sua vita. Mentre ama molto le figlie, la nipote di questo figlio, dice non parliamo di un figlio perché l'umore mi va sotto i piedi. E il film, lui in qualche modo l'ha voluto anche proprio perché ha voluto liberarsi di questa vergogna. Ha utilizzato il mio interesse per lui, la mia voglia di fargli questo omaggio per dire, per liberarsi proprio di questo peso finalmente, dire proprio esplicitamente che considera una vigliaccata ignobile quell'assassinio. e però appunto, su Morando c'è questa damnazio, io voglio vedere oggi i critici che ci sono, se vengono, se non vengono, eccetera, come prendono la sua esternazione, perché su di lui c'è una damnazio che è data dal suo primo libro quando disse che i critici, in fondo, erano come gli eunuchi nell'Arem, che potevano desiderare cose ma non farle, non poterle fare. Quindi dice, nella prima edizione lui disse che era uno degli eunuchi, punta e basta, come se fosse un suo giudizio, un suo parere, nella seconda edizione attribuisce a una fonte questa cosa vera di cui si era appropriato, e che era Elia Kazan, il quale diceva che i critici più avvertiti a un certo punto smettono di fare i critici o fanno gli sceneggiatori o fanno i produttori, smettono comunque di parlare oppure fanno i registi, naturalmente, rischiando improprio. E quindi questa cosa non gli è stata mai perdonata dalla critica. Morandini è uno che ha osato dire questa cosa derubricando l'attività critica da quella che era la pretensione che fosse anche un'attività creativa, perché molti critici si appropriano del lavoro degli altri per farsene un vestito, no? Molto colorato, con dei lustrini, eccetera. Infatti i deliri di molti critici di cui non faccio nome, ma se me li chiedi te li dico alcuni, si mettono lì, magari in video, e sprolocchiano. E uniceo è data una armada. Che cosa? Di che cosa stai parlando? Che hai a che fare tu col film di questo o quell'altro? Tu stai riferendo soltanto. Quindi attenti alla struttura, attenti alla logica di quello che hai visto, ma non sbrodolare, non dipingere sopra, non ci mettere i tuoi riccioli. È malattia grave di molta critica, soprattutto anche televisiva. E quindi, insomma, è un film di 44 minuti e qualche secondo che Morand avrebbe voluto più lungo, non so per quale motivo, dal quale lui viene fuori come un uomo di grande carisma, di grande, anche bellezza, cioè una presenza, con una enorme somiglianza con Jean Gabin, che era il suo idolo, e a un certo punto lo fa vedere anche, c'è un tira fuori dei disegni che faceva quando aveva 15-16 anni. I suoi idoli pubblicano Jean Gabin e Gary Cooper. E Jean Gabin è lui, è lui ragazzo assomiglia a Jean Gabin, un po' forte, eccetera. Quindi il film, a me Marina piace molto, quelli che lo vedano, siccome poi si vedono anche le lettere, le cose che lui dice, le mie risposte, eccetera, c'è una riflessione sulla morte dentro e quindi sensibilizza molto le persone. Però una ragazza, una giovane filosofa, giovane, 43 anni, quindi insomma, ex giovane, che ha visto recentemente il film, ha detto mi sono molto arricchita oggi. E quindi, insomma, c'è questo picco di gradimento di una persona più giovane. Gli anziani piangono, si commuovono, perché, insomma, la morte, quella signora che ti aspetta con un sorriso, la fra desiderio e ripulsa e il film che se lo racconta molto bene attraverso le lettere che Morando mi ha mandato, perché a volte chiede aiuto. Ultimamente una telefonata mattutina mi ha detto stamattina sono caduto dalla sedia. Come sarebbe di dire dalla sedia? Sì, sì, sono salito su una sedia per fare certe cose e sono caduto. L'hai fatto apposta. Silenzio. L'hai fatto apposta. Cioè lui prova, ci prova, a procurarsi un incidente perché non vuole finire nella demenza. Dice, tutto posso sopportare tranne che la caduta nell'impotenza e nella demenza. Non sopporta questa cosa. Io spero che abbia, che trovi la forza di suicidarsi a un certo punto. Lui mi ha detto, quando lo farò non se ne accorgerà nessuno. Dico intanto, beccati il film. Basta. grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.